Qui sul discorso del calore c'è qualcuno che si è scottato, il sindaco Seri e sicuramente gli assessori Fanesi e Mascarin e vado a spiegare perché. In febbraio è scaduto il contratto per la gestione calore, per dirle in parole povere, per la funzionalità dei termosifoni e dei radiatori nelle scuole e negli uffici pubblici. Questo contratto aveva una proroga di sei mesi, ci si aspettava che in questi sei mesi venisse preparato il bando per la nuova gara. Invece in questi sei mesi l'assessore Fanesi non ha fatto nulla, siamo arrivati ad agosto, ad agosto è scaduta anche la proroga semestrale e un giorno, anzi due giorni prima dello scadere definitivo, la giunta che cosa ha fatto? Ha emanato un atto di indirizzo con cui indica una proroga ulteriore di 18 mesi con una scusa, il pretesto di dover rivedere tutto il sistema degli impianti in funzione dell'efficientamento energetico. Noi diciamo che questa proroga ulteriore è assolutamente fuori legge. Qui abbiamo un assessore, l'assessore Fanesi, che assolutamente non ha organizzato le carte per poter procedere a un nuovo bando di gara entro la data prevista e quindi ha perso molto tempo. È dal 2015 che a Fano se ne parla, quindi aveva avuto anni per poter procedere. Abbiamo un assessore alla legalità e trasparenza che non è né legale né trasparente, quindi chiediamo le dimensioni di entrambi.